Il Comune di Cinzano è posto poco lontano dalla città di Torino, a circa 20 km di distanza, ed è posto a un'altitudine di circa 490 metri sul livello del mare. La prerogativa di Cinzano è innanzitutto la bellezza del paesaggio che circonda questo comune, la possibilità quindi di godere a pieno in tutte le stagioni della bellezza della natura. Siamo poco lontani dal Monferrato, infatti il Comune di Cinzano è limitrofo ad altri comuni dove inizia la provincia di Asti. Le strutture che sono state messe a disposizione dal Comune di Cinzano, agli abitanti ma anche ai turisti, sono un impianto sportivo comunale che è stato oggetto di ristrutturazione nell'ultimo periodo. Inoltre viene offerto un servizio di ristorazione all'interno dell'impianto comunale, e questo diciamo sia per gli associati che praticano lo sport sia per i turisti. La biblioteca comunale che prende il nome di Inietta Apra, scrittrice e storica dell'arte che ha vissuto gli ultimi anni della sua vita proprio qui nel Comune di Cinzano, e parliamo della fine degli anni Ottanta. È stato offerto un servizio ulteriore all'interno della biblioteca con il caffè letterario. Il caffè letterario è sostanzialmente la possibilità di poter godere di una buona lettura, magari accompagnati da una cioccolata calda. L'altro punto estremamente importante è la piazza principale di Cinzano, piazza principale che ha la prerogativa di avere una bellissima visuale, e soprattutto sulla città di Torino e ovviamente sulle Alpi che circondano questo panorama. La parte turistica è seguita da un nutrito numero di agriturismo, di made and breakfast, che offrono durante tutto il periodo dell'anno grande ospitalità a quelli che sono i turisti che decidono di visitare il nostro territorio. Grazie a tutti.